Buongiorno e bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, sabato 21 agosto 2021. A tenere banco ovviamente le notizie che arrivano dall'Afghanistan dove addirittura si è arrivati alla caccia all'uomo casa per casa alla ricerca dei collaborazionisti e intanto la comunità internazionale si chiede cosa fare per uscire da questa situazione di emergenza. In merito alle notizie di Casa Nostra continua la campagna di vaccinazione e si registra un nuovo monito da parte del capo dello Stato, mandiamo subito sul Corriere della Sera che titola Caccia all'uomo casa per casa, rastrellamenti dei talebani, giustiziato un capo della polizia, lacrimogeni sulla folla in aeroporto. Intanto il presidente americano Biden afferma che è in corso l'evacuazione più difficile della storia, non garantisco l'esito finale. Nella notte telefonata con il premier italiano, Mario Draghi. E vedete questa fotografia della marcia dei talebani armati fino ai denti, casa per casa, iniziati rastrellamenti dei talebani, un capo della polizia giustiziato e l'aeroporto, i lacrimogeni sulla folla. Biden si è attaccati, risponderemo. E c'è anche l'editoriale di Dacia Maraini che parla della voglia di libertà. Finalmente sta avvenendo quello che tutti ci aspettavamo, la protesta degli afghani contro i talebani che minacciano un totalitarismo religioso inaccettabile per la maggior parte degli abitanti di uno dei paesi più disgraziati del mondo. Una protesta contro l'inaccettabile ritorno indietro rispetto alle conquiste recenti, anche se parziali, di libertà e diritti civili. Sia su Al Jazeera, che sulla BBC, che sulla CNN, stanno circolando interessantissime immagini che mostrano le ribellioni popolari. Si vedono migliaia di giovani, ma soprattutto donne, che a faccia scoperta issano bandiere afghane e urlano slogan libertari. Drappi talebani contro drappi rosso-verdi. Quelli talebani esprimono l'odio per il diverso e il verde-rosso esprime la voglia di comprensione dell'altro. A questo punto è assurdo continuare a parlare di valori occidentali, quasi che la libertà sia un'invenzione dei ricchi bianchi, mentre i popoli poveri reclamano il totalitarismo, il ritorno alle pene corporali tipiche del Medioevo, taglio della mano, escissione, lapidazione, taglio della testa, frustate, ecc. Dovremmo, una volta per tutte, riconoscere e asserire che i diritti civili, ovvero la libertà di parola, di pensiero, di movimento, non sono valori occidentali, ma universali. E sempre il Corriere della Sera, in primo piano, porta la storia di Nahal e le sue sorelle. Ci hanno frustato. E la paura delle ritorsioni, i giovani cancellano le identità digitali. Poi c'è la storia di Khan, eroe della guerra all'Unione Sovietica, il leone di Erat, ricompare in Iran. E poi dagli iscritti del politologo, ma la democrazia si può esportare? Venendo invece alle vicende di casa nostra, Mattarella, inaugurando il meeting di Rimini, parla all'Europa. Basta, ottusità e ipocrisia. E invece, per quanto riguarda la scuola, scuola e virus, non si può sbagliare ancora. C'è ancora tanta confusione. Mentre il ministro Giovannini, bus e treni, le nuove regole per la sicurezza. E passiamo alla Repubblica, che ovviamente apre con la vicenda dell'Afghanistan. Kabul, fuochi di resistenza. La regione del Panjshir resta libera. Le milizie dei signori della guerra combattono contro i talebani e rivendicano la conquista di tre distretti. Ancora migliaia di profughi all'aeroporto di Kabul. I fondamentalisti giustiziano il capo della polizia a Erat, nella capitale caccia agli intellettuali. Intanto il presidente americano, Biden, è vero, ho deciso da solo. Adesso ho subito un G7 e ne discute nella notte con Draghi. Pierluigi Bussi scrive, dopo che gli scontenti del regime hanno sfidato i talebani nel giorno dell'indipendenza, sventolando in buona parte del paese, la bandiera nazionale, le roccaforti dei fondamentalisti a est sembrano traballare. E poi vedete a centropagina questa fotografia con Abdullah, è arrivato a Roma su uno dei due voli militari provenienti da Kabul e atterrati a Fiumicino tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì. Accompagnato dal padre, fa parte di un primo gruppo di 70 bambini con meno di 14 anni accolti dall'Italia. Il tutto finora sono circa 1.500 gli afghani portati nel nostro paese. C'è anche il commento, a quest'America serve l'Europa di Martha Dassou. La sconfitta americana in Afghanistan è anche la sconfitta politica, non militare, di un'alleanza accidentale che mostra periodicamente le sue crepe. Gli europei accusano mezza bocca Joe Biden di aver preso una decisione unilaterale, peraltro annunciata da tempo, e di averla poi gestita in modo catastrofico, nonostante le assicurazioni date ieri dalla Casa Bianca sul successo del ponte aereo americano. E poi gli approfondimenti. I nuovi padroni puntano a rifare l'Emirato Islamico, i musulmani non possono rimanere in silenzio e il Movimento 5 Stelle da Pechino all'Iran assedotti dai regimi anti-americani. Tornando alle vicende di casa nostra, Mattarella appunto a Rimini annuncia fare il vaccino contro il virus è un dovere e poi aggiunge anche un atto d'amore. E poi si parla di economia con Amazon che si converte dalle vendite online ai negozi, una svolta epocale. E poi oggi comincia anche il campionato di calcio, di serie A, in televisione cambia tutto, da zone team sotto esame. E passiamo alla stampa, il giornale di Torino che titola Draghi e Biden, un piano per l'Afghanistan, telefonata tra il premier italiano e la Casa Bianca. Kabul 10.000 ostaggi in aeroporto e rastrellamenti casa per casa. I soldati sparano e lanciano lacrimogeni. Il Qatar chiude i confini, il neolider Baradar cerca il confronto. Leggiamo il richiamo. Per dare soluzioni al disastro afghano, Mario Draghi pensa che occorra mettere a tavolo tutti a partire da Cina e Russia. Ieri è sentito dal presidente americano Biden, primo punto, salvare i profughi. Intanto decine di migliaia di persone assediano l'aeroporto di Kabul in fuga da cacce al collaborazionista e rastrellamenti casa per casa. La diplomazia è al lavoro, la cautela americana, difficili rimpatri. Roma intanto apre agli esuli accolti gli attivisti. E poi c'è il racconto, quei piccoli mosè sul filo spinato di violardone, leggiamo, le mani, sono un fiume. I loro gesti onde che cullano i bambini da una sponda all'altra di uno spartiacco ipotetico tra salvati e sommersi. O almeno così devono aver pensato le madri afghane che in questi giorni si sono riversate all'aeroporto di Kabul. E poi vedete una centropagina, questa fotografia con un titolo eloquente. Una matita per la libertà. I suoi desideri sono cresciuti in un vaso nero, come il terrore di venire uccisa dal Kalashnikov dei Taliban. E ora che il suono della libertà a Kabul si è spento per sempre. Shamisha Hassani e le sue donne leggere, sognanti e piene di dolore, dipinte sui muri della capitale, non resta che chinarsi e piangere. E veniamo alle vicende di casa nostra con il presidente Mattarella che lancia un appello sul covid, il vaccino. È un dovere il presidente al meeting di comunione e liberazione. È la scienza che poi parla attraverso Antonella Viola che scrive della obbligatorietà per tutti subito. Leggiamo allora. I dati sono essenziali nella scienza e lo sono anche per guidare tutti noi cittadini e governi nel prendere le decisioni più giuste. Tuttavia in una condizione in continua evoluzione come una pandemia virale, i dati devono essere da un lato costantemente aggiornati sulla base delle nuove evidenze scientifiche e dall'altro devono sapere essere interpretati. In questi giorni entrambi gli aspetti sono carenti e dunque molte persone faticano a comprendere che i vaccini stanno funzionando bene e che non c'è davvero spazio per esitare. Bisogna far presto e vaccinarci tutti. L'argomento più utilizzato in questi giorni di Inovax riguarda i dati israeliani. Nell'ultima settimana tra pazienti ricoverati e vaccinati erano più dei non vaccinati. E poi nelle pagine interne si spiega il perché di questa situazione. E passiamo all'avvenire il giornale della CEI, della conferenza episcopale italiana che cambia argomento e si occupa di un'altra questione altrettanto importante, quella del referendum sulla eutanasia. E si parla esplicitamente di quesito sbagliato. Flick, il referendum dei radicali può liberalizzare l'omicidio di una persona consenziente anche se in buona salute. Rischio caos giuridico e costituzionale. L'ex presidente della consulta lancia l'allarme eutanasia a sbilanciamento nella gravità dei reati. E allora leggiamo questo richiamo in prima pagina di Marco Iasevoli. Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale ed ex ministro della Giustizia, affronta il nuovo dossier sensibile che si affaccia nel dibattito politico italiano con implicazioni etiche molto rilevanti. Il referendum dei radicali per l'eutanasia legale. Mi sembra, dice, vi sia anche una contraddizione non da poco, dice ad avvenire. Se il referendum abrogativo è ammesso e riceve il consenso dei cittadini, avremmo una situazione per cui chi uccide una persona cosciente di sé che glielo chiede, anche in buona salute, non rischia il carcere. Mentre rischierebbe la sanzione dell'articolo 580 sull'aiuto al suicidio, un medico, un familiare o un amico che procura il farmaco letale ad una persona che non si trova nelle condizioni indicate dalla consulta. Quindi un evidente caos in cui presto potremmo trovarci. E poi la vicenda afghana, esecuzioni dei taleban, tanti cercano scampo, Biden, evacuazione difficile, ombre di Al-Qaeda. Si intensifica sempre più in Afghanistan la caccia da parte degli estremisti a chi ha collaborato con gli stranieri. La denuncia del centro norvegese di studi internazionali. Le liste erano state preparate da tempo. Assassinato un parente di un reporter residente in Germania. L'appello di un ex cuoco dell'ambasciata britannica a Londra mi porti via da qui. Il presidente americano Biden cerca di replicare alle critiche non so come finirà ma la credibilità degli Stati Uniti è in dubbia. Washington ha detto di aver riportato a casa 13.000 cittadini americani dal 14 agosto. Non sappiamo però quanti altri ce ne siano. Comunque porteremo via tutti. E leggiamo anche un passaggio dell'editoriale che riguarda invece la vicenda del Covid. Gli intellettuali e il complottismo. Tutto ciò che non ci dicono, scrive Alessandro Zaccuri. Leggiamo. Le teorie del complotto si basano tutte sul medesimo presupposto. Tanto più sono indimostrabili quanto più risultano incontrovertibili. Perché le prove ci sarebbero ma vengono occultate. Perché quel che rimane è un pulviscolo di indizi che pochi, pochissimi riescono a ricondurre ad un disegno unitario. In definitiva, perché non ce lo dicono, come efficacemente sintetizza il titolo del recente saggio di Enrico Buonanno sull'argomento. L'editore è UTET. A rendere ancora più simili tra di loro le varie ipotesi di cospirazione contribuisce l'opacità della loro origine. Opuscoli di dubbia provenienza, manipolazioni con oscure finalità politiche, intenti persecutori malamente dissimulati. In una prima fase la vicenda del Covid-19 non ha fatto eccezione, amplificata dall'effetto eco tipico delle reti sociali. La presunta controinformazione si è dapprima basata su fonti non verificate né verificabili, su video maldrestri, sulla ricerca ossessiva della singola incongruenza che da sola avrebbe smentito la versione ufficiale. Come già documentato su queste pagine, è bastata l'iniziativa di una zina di persone, nessuna delle quali in possesso di adeguate credenziali scientifiche, per far circolare la convinzione che il coronavirus non esisteva, che era stato certamente prodotto in laboratorio, che era stato diffuso intenzionalmente. Se vi sembra che un'eventualità escluda l'altra, significa che il complottismo non vi è ancora abbastanza familiare. O pur di ottenere il risultato, il quadro cospiratorio non teme di contraddirsi. La sua forza sta nella ripetizione, ulteriormente rafforzata dal carattere ricorsivo delle accuse. Come dimostra molto bene Buonanno, lo schema è sempre il caro vecchio loro contro noi. Loro che non ce lo dicono, noi che scopriamo la verità nascosta. Di ondata in ondata però la pandemia ha finito per introdurre varianti significative anche nelle reazioni dell'opinione pubblica. La più ragguardevole, almeno in Italia, consiste nel coinvolgimento di figure intellettuali di primo piano che hanno progressivamente assunto posizioni polemiche per quanto riguarda l'applicazione del piano vaccinale e in particolare il ricorso al green pass o passaporto verde, con argomentazioni molto più sofisticate rispetto a quelle abitualmente in uso nella galassia complottista. Si denuncia il rischio della limitazione delle libertà personali, adombrando minacciosi scenari futuri che, ad un esame ravvicinato, tradiscono il principale difetto di sottovalutare o addirittura negare l'ancora minaccioso scenario presente. È un salto di specie, forse non del tutto imprevedibile, questo che dalla rozzezza del non ce lo dicono porta alla condiscendenza dell'avesso ve lo dico io. Anche a costo andrà aggiunto di sottrarsi ad appelli autorevoli, come quelli che provengono dal Papa e dal Presidente Mattarella. E a proposito di Mattarella, spinge per i vaccini, sbarra, siano obbligatori. Cala l'indice RT nazionale ma due milioni di cinquantenni senza neppure una dose. Il Presidente Sergio Mattarella apre il meeting dei Rimini e richiama ciascuno alle responsabilità. Vaccinarsi, ribadisce, è un dovere e il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli. Il Segretario della CIS, Luigi Sbarra, l'immunizzazione sia obbligatoria per legge. E a proposito del meeting di Rimini 2021 leggiamo anche il richiamo fede e il tu relazioni. Ecco che cosa serve a costruire l'io. L'io cristiano è l'alternativa all'individualismo ma ci vuole tanto coraggio per capirlo e praticarlo. E' il messaggio che arriva dalla prima densa giornata del meeting di Rimini. E passiamo al sole 24 ore e quindi ai temi di natura economica. Il giornale di Confindustria titola da lunedì il bonus per i televisori ma solo uno su dieci riuscirà ad averlo. Vediamo infatti di che si tratta. Lunedì parte il bonus Rottamazione TV per l'acquisto dei televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre. L'agenzia delle entrate renderà disponibile la piattaforma su cui i rivenditori caricheranno i dati dei clienti per avere il rimborso dello sconto. Sarà pubblicato un elenco dei negozi che applicano il bonus pari al 20% del prezzo per un massimo di 100 euro. La dote prevista di 100 milioni di euro in caso di incentivi pieni coprirebbe solo il 10% della platea dei consumatori potenzialmente interessati a passare al nuovo standard televisivo. E poi N26, la banca dei giovani nel mirino dell'autority tedesca per il riciclaggio. E poi a centropagina vedete questa atleta italiana delle Paralimpiadi, il riscatto dell'atleta ferita in Afghanistan. La bersagliera dell'esercito Monica Contraffatto colpita da una bomba nella missione AERAT ha vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2006. Parte intanto martedì a Tokyo la Paralimpiade dei record. E poi c'è una notizia che giunge dalla Cina che è molto importante. Terzo figlio è stretta sulla privacy. In Cina doppio cambio di linea. E allora leggiamo. La Cina cambia rotta sul piano demografico per combattere il cao delle nascite e l'invecchiamento della popolazione. Via libera alla nuova legge che consente alle coppie di avere fino a tre figli. Solo cinque anni fa il osso aveva detto addio alla politica del figlio unico portando il limite a due. Sempre ieri altro cambio di linea di rilievo da parte di Pechino con una stretta sulla privacy online. Dal primo novembre in vigore norme che limitano le informazioni che le aziende possono raccogliere e stabiliscono gli standard su come devono essere archiviate. La stretta regolatoria è un ulteriore colpo al settore tecnologico cinese e ha avuto un impatto negativo sulle borse asiatiche. E passiamo ai giornali di ambito regionale cominciando con il messaggero il giornale della capitale che titola vaccino dovere di tutti il monito del capo dello stato la nuova scossa del colle il richiamo di mattarella e i ventenni si immunizzano più dei genitori e poi aule aerazione trasporti supplenze scuola riapertura a rischio caos leggiamo vaccino dovere di tutti la nuova scossa del colle il richiamo del presidente mattarella durante il meeting di rimini il report del commissario figliuolo i ventenni si immunizzano più dei genitori intanto aule aerazione trasporti e supplenze la riapertura a rischio caos della scuola e poi per quanto riguarda invece il la vicenda afghana telefonata a draghi biden sul nuovo afghanistan e poi i nuovi diritti che vanificano le prescrizioni anti contagio parti e non solo la vicenda del rave party che ha tenuto banco per cinque giorni in nel lazio e poi vedete a centro pagina una fotografia abbastanza curiosa la donna che sussurra ai cavalli d'oro silvia torresani mental coach dei cavalli del team svedese e campione a tokyo con la cura olistica appunto di silvia torresani e poi c'è una notizia che riguarda il reddito di cittadinanza obbligo di accettare il lavoro stagionale il governo lavora alla norma per limitare i rifiuti su impieghi lunghi meno di tre mesi leggiamo si prepara a cambiare il reddito di cittadinanza si dovranno accettare i lavori stagionali oggi chi prende il sussidio può rifiutare contratti sotto i tre mesi il vincolo cadrà la misura per fronteggiare la carenza di personale dagli alberghi all'agricoltura l'altra novità riguarderà la formazione chi incassa l'assegno dovrà seguire i corsi intanto c'è un'altra notizia che riguarda i comuni che sono in ritardo nei pagamenti lo stato è moroso per 58 miliardi di euro le imprese sono in allarme e passiamo al mattino il giornale della campania e di napoli la scuola che riparte nel caos spazi aerazione trasporti supplenze a poche settimane dal via restano tutte le criticità novax la scossa di mattarella vaccinarsi è un dovere è un atto d'amore per i più deboli e poi ancora la telefonata draghi biden nazione comune sull'afghanistan e le istituzioni che stanno a guardare il caso del rivo party e ancora vediamo a proposito della pandemia ricoverati grave 9 su 10 sono novax l'allarme dei pediatri variante sos bambini contagi in aumenti e intanto reddito arriva la stretta le nuove regole obbligatorio accettare gli impieghi stagionali leggiamo perché questo è sicuramente importante in arrivo nuovi obblighi per i percettori del reddito di cittadinanza tra le modifiche al sussidio oggetto di valutazione da parte del ministero del lavoro ce n'è anche una che punta ad introdurre l'obbligo per i percettori ritenuti occupabili di accettare i contratti di lavoro con una durata di almeno due mesi oggi al contrario è possibile rifiutare i rapporti di lavoro che durano meno di tre mesi senza rischiare di perdere la card e chiudiamo con l'altra voce dell'italia il quotidiano del sud che si occupa della calabria e più in generale del mezzogiorno roberto napoletano il direttore del giornale nel suo editoriale lo titola la nuova ricostruzione non si fa a chiacchiere il super talk estate inverno dove ciò che interessa i bisogni delle persone è bandito dobbiamo uscire in fretta dal chiacchiericcio permanente del nulla mediatico partitico e bisogna fare in modo che l'occasione storica del recovery plane sia raccontata e compresa per quello che è e incontri quindi il sostegno della pubblica opinione oggi ai partiti interessa il dialogo tra di loro invece ciò che conta è il dialogo con il paese perché il paese che tirare la carretta bisogna uscire in fretta da questo teatro delle maschere dove tutto è propaganda e dove la politica si riduce a retro bottega e poi vediamo il di spalla paghiamo i talebani per ogni afgano che portiamo via e ancora comparto strategico che soffre di nanismo imprese a costruzioni frammentate sapranno rispondere al pnrr ercolin calza scrive parto come prima considerazione da un confronto tra le prime 20 imprese del 1990 e nel 2020 intanto appare evidente la distanza della dimensione economica cioè della capacità di fatturato in realtà indipendentemente dal reale potere di acquisto siamo di fronte ad una crescita in alcuni casi di dieci volte del fatturato e poi l'ultimo titolo le banche non fanno più le banche sono supermarket di polizze e fondi la denuncia della fabi le banche italiane sono ormai dei supermarket della finanza è passata invece in secondo piano l'attività di concessione del credito con grave danno per le famiglie soprattutto le piccole e medie imprese che non avendo accesso ai mercati finanziari incontrano difficoltà crescenti ad ottenere i finanziamenti necessari per svolgere la loro attività a queste conclusioni arriva un'analisi pubblicata dalla fabi ne parla nino sun seri ed era questa l'ultima notizia di questo appuntamento con la rassegna stampa che torna lunedì stessa ora stessa rete per il momento non andate via e restate con i nostri programmi buon weekend